Match point Soverato, sezione lunga, Gibertini poi l'attacco di Botarelli sul diagonale c'è la difesa di Martignacco la difesa poi dall'altra parte di Bortoli, Bagger di Caneva per l'attacco di Botarelli, Murata ma ancora Gibertini che può giocare il punto per Mason, muro, fuori e allora si chiude qui Coach Marco Gazzotti, un punto per Martignacco qui a Soverato, probabilmente sul 2-0 si era anche accarezzata ovviamente il pensiero di poter raccogliere qualcosa in più però obiettivamente dopo il 2-0 abbiamo visto un altro Soverato e sicuramente anche un altro Martignacco Chiunque si trovi 2-0 è ovvio che accarezzi qualcosa di più, anche se alla vigilia per noi portare a casa un punto era comunque una cosa importante in un campo difficile come questo Dal terzo set in poi ci sono state due squadre diverse, noi abbiamo permesso loro di fare il loro gioco, di fare quelli che sono i loro punti di forza Noi abbiamo una squadra molto giovane, si è persa completamente, siamo usciti dalla partita e dopo rientrare è stato complicato e difficile Noi ovviamente abbiamo alcuni punti di forza come può essere la nostra americana e se cala un po' lei noi facciamo tutti un po' fatica Loro hanno cominciato a difendere e a murarla e quindi per noi è stato molto complicato Sono contento per il punto guadagnato e per i primi due set che secondo me sono stati di ottima qualità Nella seconda parte della partita non c'è stata proprio storia perché c'erano in campo due squadre con una qualità decisamente diversa quindi per noi purtroppo non c'è stato niente da fare Martignaco che ha disputato un ottimo girone di andata di regular season e inizia bene comunque anche il girone di ritorno con questo punto conquistato che muove la classifica e che vi permette di rimanere nelle zone medio-alte Sì, il nostro obiettivo ovviamente è quello di portare a casa la salvezza anche quest'anno quindi ogni partita per noi è una battaglia ed è una lotta Dobbiamo riuscire a far crescere questo gruppo con un po' più di costanza, con un po' più di lucidità accumulare esperienza perché abbiamo tante ragazze giovani che come si è visto anche oggi alle prime difficoltà vanno in crisi quindi dobbiamo riuscire a mettere questa ragazza nelle condizioni di riuscire a uscire da situazioni difficili come questa e di continuare a collare il sogno della salvezza che per noi ovviamente è l'obiettivo principale e che se dovessimo riuscire a ottenere sarebbe veramente qualcosa di grande Ancora un'altra prova di carattere per il volley soverato in casa sotto 2-0 recupera direi agevolmente guardando il punteggio e vince al tiebreak con determinazione e anche disputando una buona gara quindi un soverato che coglie due punti importanti e pesanti direi per come si era messa la partita I punti sono importantissimi, due punti fondamentali per la classifica perché Martignacco la reputo comunque una contendente ai primi cinque posti quindi significa avere oltre i due punti anche una vittoria in più cosa che è fondamentale la partita è un po' strana perché il primo set secondo me non l'abbiamo giocato molto molto bene loro hanno difeso veramente l'impossibile è veramente difficile giocare contro una squadra che difende così diventa complicato perché ci si innervosisce, si perde la pazienza e secondo me il secondo set è stato anche un po' frutto dello strascico che ci aveva lasciato il primo set io credo che abbiamo giocato 5-7 tutti e 5 di buon livello eccezione fatta per il secondo che abbiamo avuto un contraccolpo fisiologico la differenza l'ha fatta un po' Martignacco che ha giocato i primi due set in maniera perfetta ed era veramente difficile da giocarci, veramente difficile bravi le ragazze a crederci, a non mollare, siamo rimasti in campo devo fare i complimenti allo staff, ad Andrea Rotella, allo staff medico perché continuiamo a tenere comunque il campo in maniera eccezionale anche su partite molto lunghe, anche partite molto difficili questo è merito di tutti, in particolar modo anche dello staff che Ramason ha giocato con un problema al dito e ha stretto i denti quindi bravi tutti, bravi le ragazze che ci hanno creduto Da segnalare direi anche la tenuta mentale della squadra perché dopo aver perso al fotofinici quel primo set aver avuto 4 set point, perdere il secondo e poi in anellare un 25-13, 25-13, 15-8 vuol dire che la squadra è rimasta con la testa nella partita questo vuol dire che anche sotto il profilo mentale la squadra continua a crescere Ma è un aspetto su cui stiamo lavorando tanto io l'ho detto anche nelle partite precedenti che una delle cose che ci stavo un po' penalizzando era la non capacità di rimanere attenti per lunghi periodi ci stiamo lavorando in allenamento con sistemi di punteggio abbiamo, e questo devo dirlo, trovato una dodicesima giocatrice che è di altissimo livello che ci sta permettendo di alzare tanto il livello e l'intensità dell'allenamento e questo per noi è fondamentale i risultati si vedono anche se oggettivamente è una cosa su cui stiamo lavorando da tanto perché sapevamo che era un po' il nostro tallone d'Achille unitamente a tante altre cose che però fanno parte un po' più delle situazioni tecniche, tattiche l'aspetto mentale non è spesso così facile da lavorare soprattutto quando si ha questo problema sulla tenuta sul lungo periodo o quantomeno cercare di limitare i passaggi a vuoto devo dire che nelle ultime partite Talmasson, Montale e Martignacco da questo punto di vista abbiamo avuto veramente una grande dimostrazione di essere migliorati tantissimo Grazie a tutti